Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono sempre Domingo, oggi andiamo a fare un piccolo video di speculazioni sull'evento grosso di League of Legends e su un probabile ASU di Cassadin. Sul PBE è stata aggiornata la splash art di questo campione, adesso da quello che potete vedere Cassadin risulta molto più in tema con il vuoto rispetto alla splash art e al modello in game attuale. Perché dico di un probabile ASU? Secondo me durante il 2022, anche se potrebbe essere abbastanza palese, ma magari poi Riot Games, come ben sappiamo, non rispetta sempre quello che annuncia, anche se l'ASU di Cassadin non è stato annunciato. Però se rilasci una splash art aggiornata e il modello in game non rispecchia per niente l'immagine che dai del campione, molti potrebbero pensare che il champion in questione riceverà un aggiornamento estetico anche in game. Dico questo perché se andate a vedere la cinematica di inizio gennaio per la nuova season, alla fine Kaisa entra nel portale che sostanzialmente la sta portando di nuovo nel Void. Per chi non lo sapesse, Kaisa è la figlia di Cassadin. Prevedo che questi due campioni si rincontreranno. E qual è il momento migliore per, uno, vedere Cassadin in una cinematica e, due, rilasciare una ASU per questo campione. Non vedo perché dovrebbero rilasciare solo una splash art se non vogliono fargli anche un aggiornamento grafico. Inoltre, stanno rimodernizzando la maggior parte dei campioni del vuoto. È uscito già qualche patch fa un aggiornamento, gli effetti delle abilità di Velkots. E con questa immagine prevedo un aggiornamento anche per Cassadin o, al massimo, lo vediamo in qualche cinematica. Quello che ci hanno fatto capire, il focus dell'evento grosso, sarà appunto il vuoto. Kaisa sta tornando nel Void. Cassadin e suo padre ci mostrano una splash art a giornata del campione. Secondo me Kaisa rincontrerà suo padre e spero che lo aggiornano anche esteticamente nel gioco. Adesso vi faccio vedere anche il modello in game. Questo è il modello in game e rispetto alla splash art nuova non c'entra praticamente niente. Questa sorta di elmo diverse, questa sorta di maschera diverse, anche gli spuntoni sugli spallacci sono diversi. Secondo me faranno un visual game update per il campione. Non è stato ancora annunciato niente, non c'è niente di ufficiale, però aspettatevi questo. La butto lì, potrebbe essere una teoria azzardata, sono speculazioni, ma fatemi sapere la vostra nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like per supportare il canale. Ci vediamo nel prossimo video.